Memoria a Luciano Basso, leggiamo le informazioni da SD Sade, col numero 1 Siligardi, col numero 2 Finiguerra, col numero 3 Casarollo, col numero 4 Prati, col numero 5 Guida, col numero 6 Tullo. Mauro, guarda sulla squadra! Giaccarlo, non in linea, davanti, l'ho detto due secondi fa, davanti! Vieni via Davide, vai Guido, Guido, grande! Guido, qual è tuo Guido? La 진짜, non stringere, multi! Faccia, tiaccia, dai to' voi il gioco! Grande Davide! Sei già lì! Guido! No, l'oga. numero 3 avvio lì era fanno, 반 しますi. Eri già lì, devi stare a largo in questo... Calma! Calma Davide! Chito! Calma, Chito! Uno e due! Chito! Uno e due! Chito! Bravo, bravo! Bravo, Chito! Bravo! Bravo, Chito! Bravo! Bravo, Gioi! Chito! Chito! Un poco, Chito. Bravo, Chito! Bravo, Gioi! Bravo! Bravo, bravo, Tito! Il primo... Ha calciato sul cane Grazie a tutti. Grazie a tutti.